Saldi estivi ai nastri di partenza dal 6 luglio prende il via la stagione degli acquisti a prezzi scontati. La fiducia dei consumatori e la voglia di shopping alimenteranno la corsa ad accaparrarsi i capi di fine stagione. Saranno le donne, secondo confesercenti, a spendere di più rispetto agli uomini. Si cercano capi già inseriti da qualche giorno nella lista dei desideri. Si stima una spesa pro capite di circa 170 euro. L'arrivo tardivo delle calde temperature favorirà gli acquisti scontistiche nelle vetrine già fra il 20 e il 30% nei primi giorni, con punte anche del 40. L'appello di confesercenti è quello di frequentare i negozi nei centri storici e sotto casa, un valore aggiunto per il territorio dove, ad accogliere la clientela, resta la professionalità, la qualità e il rapporto umano. Confesercenti ricorda poi che dal 1 luglio sono entrate in vigore che prevedono l'obbligo di indicazione del prezzo precedente. Nel caso di progressività degli sconti, e cioè quando gli sconti diverranno via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente che va sempre evidenziato è quello riferito ai giorni antecedenti, l'avvio dei saldi. L'adeguamento alla normativa vale per negozi fisici, outlet o store online. Le nuove regole prevedono anche l'aumento delle sanzioni minime o massime in caso di pratiche commerciali scorrette.